Spopola sempre più la passione per il paddle. Da giovedì e sino a domani, domenica 17 settembre, il Gala Sport di Campobasso sta ospitando un torneo open con un monte premi da 1500 euro. Tre i tabelloni previsti, uno di doppio maschile, uno di doppio femminile e uno infine di doppio misto. Di rilevo il numero di presenza alla Kermess, motivo di profonda soddisfazione per gli organizzatori. In particolare, al microfono di Teleregione, ha così espresso le proprie considerazioni Pino Astorri. Sono felicissimi di aver fatto questo torneo fit 1500, con ottimi giocatori sia locali che di fuori. Stamattina c'è un bel derby tutto locale, con belle coppie, con De Rosa che è il nostro campobassano, sicuramente più forte e che speriamo, il tifo è tutto per lui, speriamo che vada fino in fondo. Mol e Astorri che stanno giocando in questo momento e soprattutto domani che verrà a Bortoli un argentino di sicuramente livello nazionale.